ciao a tutti e benvenuto un nuovo video dell'impero delle tenebre sono kyo e oggi voglio parlare di mortal kombat 11 nella sua versione ultimate per ps 5 infatti tra poco o meglio il 19 settembre o se non ricordo male il 14 forse addirittura un paio di giorni prima comunque la versione deluxe per chi compra ormai le deluxe oltre a qualche contenuto bonus o magari per chi la compra fisica un'edizione diciamo un pochettino più bella c'è l'accesso anticipato devo dire che solitamente lo farei ma adesso sono un po corto di soldi e effettivamente non sono convintissimo come per gli altri mortal kombat di comprare una deluxe della prima edizione quando poi come infatti questa ultimate quasi due anni dopo in realtà dopo un bel po hai un gioco con molte più funzioni nuovi personaggi che vengono lasciati in diversi season pass perciò preferisco appunto magari prendere la versione base e godermi quella perché intanto il gioco è quello e poi magari più avanti quando scende di prezzo prendere o il passo con i personaggi scontato oppure direttamente la ultimate come ho fatto ad esempio con questo mortal kombat 11 da sostituire a quella base perché infatti se la rivendo e mi vado a comprare in un negozio quella fisica ci vado a spendere ancora meno infatti penso che farò così anche per l'uno per l'uno scusatemi mi incastro perché anche qui hanno messo come aggiornamento il banner che ti ricordo di fare il preorder qua tanto per far vedere un attimo i personaggi che poi hanno aggiunto non solo alcuni personaggi nuovi o meglio vecchie conoscenze ma ripescate come appunto night wolf c'era sindel hanno aggiunto minina rain fujin citron invece fa parte del cast base non ho capito mai perché li hanno posizionati in questo modo e effettivamente poi ci sono i personaggi crossover perché essendo adesso un gioco distribuito da warner bros games o meglio realizzato in collaborazione perché poi lo realizza sempre nether realm che però si vede che per qualche accordo devo usare ogni tanti personaggi warner bros quindi in questo caso c'è il joker poi non è che c'entri con tanto con la warner ma credo che per qualche diritto da una parte o dall'altra i film comunque di rambo e di terminator e robocop arrivano e era una cosa figa perché altri giochi presentavano i personaggi horror altri invece i personaggi dc o mortal o di mortal combat che si facevano visita tra di loro e poi c'è anche spawn che in realtà non è la prima volta che entra in un picchiaduro perché c'era anche in soul calibur 2 se non ricordo male erano personaggi che appunto ogni versione aveva quella xbox aveva spawn quella invece nintendo aveva link naturalmente e se non ricordo male perché non vorrei confondermi poi con quello dopo quel 4 addirittura c'era kratos non vorrei confondermi poi c'era l'apprendista c'era stato dar sveder e yoda a seconda dell'edizione insomma comprare al day one sicuramente ha meno cose ma comunque sono cose che escono nel corso quasi di un anno perciò effettivamente sono quelle cose che sì mi viene voglia di averle ma poi andando a vedere non danno nuovi trofei non ci sono cose extra per così dire a parte qualche costume sì sono carini c'è ad esempio un costume per cassy cage in stile early queen però ok sono cose in più diciamo che la sostanza del gioco anche in questo mortal combat 11 rimane la stessa se non fosse che anche qui appunto dopo la prima ondata di dlc avevano fatto anche questo the aftermath che è la seconda parte della storia e qua mi ha fatto un po' incazzare perché effettivamente la storia di mortal combat 11 ha un inizio una fine molto bella in realtà è un proseguo di quello che si era visto in mortal combat 9 mortal combat 10 o meglio x e poi appunto questo 11 che è scritto come però fosse un 2 perché mortal combat x faceva da reboot praticamente al all'universo di mortal combat e questo è come se fosse un mortal combat 2 in cui erano già successe delle cose morti alcuni personaggi e si vedevano le conseguenze si scopriva qual era il vero diciamo nemico che aveva ordito tutto questo complotto temporale è molto particolare come narrazione infatti gli story mode di mortal combat mi sono sempre piaciuti un sacco perché sono appunto fantastici sono molto cinematici ma realizzati benissimo con proprio una vera e propria regia hanno delle trame carine con anche delle cose che non ti aspetti una rivisitazione appunto in questi ultimi mortal combat della saga originale che ormai era andata perduta e infatti anche molti nuovi giocatori si sono avvicinati al brand perché gli ultimi titoli quelli playstation 2 perché poi mi sembra che su playstation 3 alla fin fine l'unica era il 9 che era uscito nuovo gli altri erano ancora di vecchia generazione ed erano orribili erano successe nella trama delle cose allucinanti un sacco di personaggi veramente brutti ma nel senso proprio caratterizzati male difficili da giocare per niente appaganti neanche dal punto di vista estetico quindi era semplicemente dover aggiungere sempre più cose e avevano combinato un casino qua avevano rimesso a posto le cose e il finale di mortal combat 11 ci portava appunto a un nuovo inizio che dovrebbe essere quello di mortal combat 1 sono un chiamiamolo primo torneo di mortal combat dove la gente non ci ha mai partecipato johnny cage jex sonia sono gente che ci va per la prima volta e poi vabbè scorpion e subzero con la loro faida che poi diventano ogni tanto amici nemici e così via però effettivamente anche lì ok ci stava si capiva già dal finale appunto di questo 11 che sarebbe stata una cosa del genere un ennesimo reboot ma se il gameplay è valido come mi sembra io l'accetto però questa parte 2 mi ha sempre dato fastidio e per un motivo o per l'altro non l'ho mai giocato perché l'avevo preso appunto con molto ritardo aspettando che scendesse di prezzo per ps4 e poi è uscita nel frattempo no era già uscita in realtà quando ho preso il gioco il gioco probabilmente era uscito prima della ps5 la versione ultimate però io l'ho recuperata solo dopo perché appunto non volevo spenderci soldi per dei personaggi extra delle skin che poi si ci giochicchio un po' l'avevo già visto con injustice con appunto altri picchiaduro anche mario versus capcom si ok però dopo essermi spaccato per così dire con la storia base con i trofei le cose che riuscivo a fare i personaggi extra erano solo degli extra carini per farci qualche versus ogni tanto magari con gli amici ma nulla di più poi il fatto che fossero tutti quasi tutti o meglio personaggi citazioni di film e cose fuori dal brand di mortal combat non è che mi esaltasse tanto però questo aftermath appunto mi aveva intrigato ma anche fatto incazzare perché almeno per la storia base ci sono due trofei sbloccano i personaggi e effettivamente ti fanno fare anche lì un po' di gavetta nel gioco questa invece è un'aggiunta che non ho capito perché e infatti appunto non l'avevo poi giocato per un problema con l'altro con la console appunto avevo perso anche il salvataggio ma per fortuna sono riuscito a recuperarlo perché l'avevo sincronizzato e infatti sono anche riuscito a trasferire i progressi nel gioco base infatti ho più di un milione di soldi sono al livello 53 però i trofei non poppano in automatico e quindi ho dovuto rifare su PS5 un po' di cose essendoci però già sbloccata la cripta avendo già i soldi, gli oggetti è molto più facile poi gran parte dei trofei richiedono di fare le fatality perché è molto incentrato su quello e quindi lo rifai veloce però quello delle torri no le torri già nella versione diciamo PS4 base mi avevano fatto sboccare devi farne tipo 250 non ce la facevo cioè dopo un po' mi annoio anche perché fare e rifare le stesse cose 250 è davvero troppe troppe volte che piuttosto finisci o almeno la torre media con tutti i personaggi ok quello che sarebbe fattibile 250 torri anche di quelle piccole da 6 personaggi sono tanti tanti personaggi da affrontare sì perché poi non ti dà grosse ricompense non è che ti dà cose incredibilmente mistiche alcune sono anche abbastanza casuali se non mi ricordo male perché si aggiornano quindi non ho voglia di rifarlo però effettivamente non ho mai giocato Aftermath e adesso che sta per uscire Mortal Kombat 1 che teoricamente è comunque il seguito di questa storyline magari mi è venuto in mente che potrebbe esserci anche la spiegazione del perché quei personaggi hanno quel design e che cosa è successo quindi proviamolo mettiamo molto facile perché appunto non ce l'ho voglia di sbattermi anche perché Mortal Kombat indipendentemente dalla difficoltà che scegli ci sono alcuni personaggi o chiamiamoli boss tipo Goro o Shao Kahn che sono così devastanti che anche in facile ti ammazzano di botte perché fanno proprio troppo danni in più quindi adesso godiamoci il finale con Liu Kang Dio del Fuoco che appunto va a sostituire Raiden e prendendo il posto anche di Kronika riplasma l'universo da zero facendo partire anche per così dire un nuovo Mortal Kombat prima o poi molto molto tamato la qualità comunque è alta perché è un upscaling alla fin fine però è notevole presa e conclusa Liu Kang Lord Raiden chiamami soltanto Raiden ti sei mostrato degno di prendere il mio posto come nuovo protettore della terra quando tornerà a vivere ne sono onorato Raiden l'onore è solo mio Lord Liu Kang le sabbie del tempo ormai ti appartengono e sta a te soltanto plasmare una nuova storia il destino di tutti i regni nelle mie mani Raiden non posso farcela da solo ti offrirò consiglio finché le mie spoglie mortali lo permetteranno ma sono certo che tu sarai all'altezza allora vediamo di iniziare insieme ecco qua finiva appunto la storyline dell'11 e teoricamente era un bel finale ci porterai alla rovina questo invece è inaspettato ma cosa interrompi la magia se non vuoi distruggere la clessina anche qui agli albori del tempo non rinunci a menzogne e inganni non ti daremo ascolto sconfiggendo Kronika avete distrutto la sua corona senza di essa non è possibile riavviare il tempo la clessidra andrebbe in frantumi e tutti i regni andrebbero persi per sempre Fujin dice il vero ogni singola azione di Kronika era volta a preparare la sua corona non avrebbe mai riavviato il tempo senza usarla tu come fai a sapere in cambio del nostro aiuto Kronika ci ha offerto un ruolo nella sua nuova era per aver rifiutato ci ha relegato in un vuoto al di fuori del tempo abbiamo assistito agli eventi prima dell'assedio della fortezza ma senza potere intervenire ma poi Kronika è stata uccisa il sigillo del vuoto si è infranto e noi siamo fuggiti attraverso la clessidra visto che conosci così bene la clessidra come mi consigli di riavviare il tempo usando la corona la corona è distrutta nel nostro presente ma non nel nostro passato e anche se io non posso riavviare la storia senza la corona puoi comunque inviare qualcuno nel passato di questa linea temporale capisco tornare all'istante prima della morte di Kronika e cambiare l'esito della battaglia in modo che la corona resti intatta sarebbe un rischio troppo grande da correre Kronika non deve ottenere la corona altrimenti non abbiamo alcuna garanzia di uscirne vincitori e allora che cosa suggerisci stregone suggerisco di inviarmi nel passato per rubare la corona dalla mia isola prima che Kronika chieda a Setrion di recuperarla quindi la consegnerò a Lord Raiden e insieme sconfiggeremo Kronika con la corona e la clessidra sotto il nostro controllo potremo riavviare la storia senza rischi non è proprio perché diamo ascolto a questa serpe perché questa serpe ha lottato al fianco di Kronika e adesso ne conosci i segreti so quel che dico e tu? non ha tutti i torti Raiden Fujin parliamo? perché mai hai deciso di tradire Kronika? le sue promesse di grandezza non erano abbastanza? mi trattava come se fossi un suo suddito e non quale suo alleato mi aveva relegato a un ruolo di semplice contorno dovevo solamente raccogliere le anime per la sua corona una volta concluso il mio compito lei mi ha tradito e non ha esitato a gettarmi nel vuoto le tue lamentere non mi ingannano Shang Tsung allora confida nel fatto che abbiamo un obiettivo in comune spezzare il controllo di Kronika sui nostri destini prima o poi avremo interessi contrapposti questa alleanza è solamente temporanea non mi lodo certo del contrario comprendo bene tutti i tuoi timori ma non abbiamo altra scelta ma i rischi Ryukanga? saranno tutti ripagati non dire nulla Nightwolf è bello questi sotterfugi politici tra semi divinità dunque seguiremo il tuo piano Shang Tsung io resterò qui e azionerò la Klesidra ma Nightwolf e Fujin verranno con te per controllarti il vostro aiuto è apprezzato verrò anch'io ogni tanto ci sono anche dei combattimenti o almeno dovrebbero anche per farti usare i nuovi personaggi se c'è qualcuno di cui mi fido quello sei tu fratello me vedo male tenterò di riportarvi alla cronofusione dovreste avere il tempo di recuperare la corona prima che Setrion la consegna cronica il tuo ottimismo mi consona come custode del tempo sono alle prime armi Nightwolf il grande spirito possa proteggerci bello perché Nightwolf era un personaggio che non si vedeva ma ne parlavano alcuni personaggi erano solo nello sfondo in certi filmati però è appunto bello che continuavano a alimentare la mitologia appunto di Mortal Kombat con un reset funzionale ma sono tornato e prometto che vi salverò dalla sua follea solo io posso ricostruire l'impero tutti i mondi tremano dinanzi a me e da preda al regno esterno tornerò conquistatore è perché praticamente qua a differenza del 10 ci sono le versioni per così dire giovani e quelle anziane che si scontrano e alcuni personaggi morti come Shao Kahn sono tornati perché fa figo fa appunto guerriere di arti marziali che però salvano gli universi a suon di kung fu Mortal Kombat ha questa magia per così dire che mi intriga tantissimo se l'avessi vista prima non mi sarei servito di milina mia sorella non era altro che un mostro orrendo esattamente come te padre andando loro si scontrano perciare il combattimento nell'arena e continua con l'almerazione dei capitoli quindi questo è il capitolo 13 e usiamo Nightwolf e sotto il capitolo c'è il personaggio a cui è dedicato quant'è Tamar questo è il duello fra Kitana e Shao Kahn allora abbiamo poco tempo andiamocene in fretta se alterassimo l'esito di questo scontro Cetreon potrebbe ottenere la corona ancora prima e condannarci per sempre andiamo beh è interessante perché così ti fa usare anche nuovi personaggi ma in maniera furba e con un bel po' di violenza ripeto a livello di design hanno fatto un gran lavoro e sembra che in Mortal Kombat 1 siano riusciti a rifinirlo ancora di più quindi mi aspetto tanto e poi ne parlerò beh sicuramente farò subito un video e non so se farò qualche approfondimento come Street Fighter però sicuramente sarà un titolo che almeno per me da giocare sarà molto interessante infatti mi scazza anche lì che esce il 19 insieme a Life's of P e già adesso in questa settimana ci sono anche delle altre piccole uscite sono già uscite anche inizio mese dei titoli interessanti alcuni però sono in digitale un po' troppo costosi quindi aspetterò qualche saldo più avanti però appunto ho preso la palla al balzo anche per staccarmi un po' da Baldur's Gate 3 perché se no ci stavo attaccato davvero troppo ci stavo cadendo letteralmente dentro è così immersivo che non riuscivo proprio a staccarmi a volte anche solo mettermi a commerciare passavano le ore siamo in troppi Collector ne sei sicuro che animali carini livello di regia è davvero ottimo adesso veniamo separati a parte lo scontro classico questo è bello ok vediamo un po' le mosse aia ho fatto tanto male andiamo di vecchia tattica di uppercut che in Mortal Kombat fanno un danno smudato poi devo riprendere anche la familiarità con le combo perché sono molto diverse da quelle di Street Fighter pressioni veloci di pochi tasti concatenano le mosse speciali e hanno preso le ricompense legate a Iron Black così ok qua iper violenza stecca davvero davvero tanta bella è anche questo uno dei marchi di fabbrica di Mortal Kombat però è fatta bene è contestualizzata è epicizzata e poi a livello di dettagli anche solo il fatto appunto tanta roba ho fatto davvero un gran lavorone infatti sono contento che esca un nuovo Mortal Kombat però appunto sono un po' dubbioso su come possano ributtare per così dire l'universo una seconda volta però è meglio che continuare perché si era visto su Playstation 2 che continuare a oltranza era peggio poi già gli spin off su PS1 erano stati terrificanti sindel sindel è una revenant ma può essere riportata in vita e lei non riveste alcun ruolo nelle battaglie che verranno da questo momento in avanti possiamo coinvolgerla senza però modificare gli eventi dubito fortemente che Kronika riuscirà a prevedere una mossa di questo era l'imperatrice di Shao Kahn spietata almeno quanto lui questo perché lui l'aveva corrotta quella che riporteremo in vita noi sarà la sindel originale quella dall'animo nobile e se falliamo la sindel che conosco io ha sconfitto i campioni della terra in una sola battaglia è tipo nel nove che gli uccide tutti di fila lei rappresenta l'unica garanzia di vittoria che abbiamo su Cetrion sindel è imprescindibile immagino che rianimarla sarà una passeggiata vero? niente affatto possiamo sanare il suo corpo con il Jinsei della terra ma per liberare la sua anima dall'incantesimo di Quan Chi servirà la sala dell'anima del regno esterno hai un altro piano Nightwolf più efficace prova solo a tradirci stregone e sei un uomo morto da dove inizio non so come andrà dalla terra per avere accesso al Jinsei però è bello molto molto bello quello che mi faceva ingazzare appunto che sembrava che fosse finito e poi invece no c'è l'interruzione è un po' come Stain Gates 2 che ti fa tutta una nuova serie di prove avventure balzi temporali partendo dal presupposto che il finale non fosse ancora finito Fujin e Nightwolf sono stati avvistati al Colosseo questo com'è possibile non dovrebbe esserlo chi viene gettato nel vuoto non può più sfuggirne ma se Shansung stava e ne rendo conto che prendi Frost e trovatele dobbiamo capire da dove e da quando arriva è bello mi ricordavo appunto che nel 9 soprattutto la voce di Johnny Cage era terrificante questo dovrebbe bastare voi due andate pure io resterò a fare la guardia alla grotta il tuo aiuto non è necessario sento un inquadro all'orizzonte però effettivamente bello voglio vedere poi cosa hanno inventato per la cripta in Mortal Kombat 1 anche perché appunto anche lì rinnovarla ancora sarà difficile non ho ben capito cosa sono i i i combattenti tipo cameo chitto con la k perché ci vuole sempre avanti Kronika desidera parlare con voi ok tante ignoranza però coreografata magnificamente molto 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 figo molto molto figo quanta violenza ignoranza in sta cosa Kronika non ha futuro Frost l'abbiamo visto schierati dal lato giusto della storia l'unico lato per me è quello di Kronika nella sua nuova era io ho già un po' ma ci sono molto più basse ok direi che comunque questo era solo anche per sparlare un po' poi visto che c'è il doppiaggio italiano non è che ci posso parlare sempre sopra però ne vale la pena se non l'avete ancora giocato tra l'altro almeno la versione normale di Mortal Kombat 11 è disponibile per gli utenti plus mi sembra addirittura già gli extra quindi nel catalogo giochi per gli abbonati c'è e ne vale la pena se poi comprate appunto le varie espansioni avete più personaggi e quest'altra parte di storia che è un po' la cosa che ripeto mi fa storcere il naso perché vuol dire che io comprando il gioco base non ho visto il finale ed è una cosa che mi rode perché devo pagare ancora per sapere come va a finire non perché compro un seguito ma devo comprare un piccolo DLC che mi fa fare un paio di battaglie in più per sapere come va quindi adesso lo farò intanto non penso che duri più di un paio di ore però comunque più che i combattimenti sono i filmati che fanno tanto diciamo come minutaggio per il resto i combattimenti anche nella story mode base sono tipo una ventina ma li fai in un paio di minuti ognuno quindi non è quella la ciccia la ciccia per tutto il resto la cripta che contiene un sacco di cose tra cui easter egg piccoli enigmi ambientali misteri e così via da sbloccare e mi aveva appassionato abbastanza mentre appunto la modalità torre o comunque l'online in generale non mi aveva esaltato quindi effettivamente quelli mi avevano un pochettino tediato per così dire infatti non l'ho platinato su ps4 di cui ho molti più trofei di questa versione ps5 perché appunto mi ero sbattuto un po' di più qua ho rifatto principalmente appunto quelli delle fatality e pochi altri però mi fa piacere anche solo appunto per tornare un po' a giocarci l'installazione è pesante perché sono tipo 80 giga e bisogna poi riscattare tutti i vari contenuti se no ci rischia anche che il salvataggio non sia compatibile con la versione che stai giocando perché tu nel salvataggio hai più cose di quelle che dovresti avere nel gioco base quindi devi rigiocare con la stessa versione del gioco e quindi boh mi ci sono rimesso proprio perché sta per uscire quello nuovo se no probabilmente sarebbe stata ancora lì a prendere polvere anche se appunto nella sua nuova versione ps5 che è comunque uscita abbastanza recentemente tra l'altro essendo un upgrade gratuito l'avevo già fatto comunque con la versione disco ma per comodità per non dover andare a ripescare il disco ogni volta e inserirlo ho riscaricato l'edizione appunto del plus così da avviarlo senza problemi intanto il salvataggio comunque quello è compatibile perché ho già riscattato tutte le altre cose quindi alla fin fine va bene lo stesso quindi io sono soddisfatto in generale di Mortal Kombat 11 sia già di quello base che del Ultimate con le sue espansioni questo Aftermath è interessante sicuramente la trama mi darà qualche gioia perché vedo già Shang Tsung che ci vuole tradire vedo già che Liu Kang e Fujin hanno parlottato quindi c'è qualche chiamiamola mistero dietro Raiden comunque sino a poco tempo fa era anche cattivo quindi non so se la sua nuova versione buona sia del tutto affidabile dopo che aveva assaggiato per così dire il potere che l'aveva corrotto e per il resto insomma il gioco è valido e mi fa ben pensare per Mortal Kombat 1 che con l'avvicinarsi della sua uscita mi ha riacceso l'hype per la saga e infatti a parte l'orrendo film che avevano fatto recentemente io trovo che negli ultimi anni la saga in generale sia rinata e questo Mortal Kombat 1 potrebbe essere una grande cosa spero che lo sia lo scopriremo insieme tra poco perché ormai manca pochissimo al suo arrivo e quindi restate sintonizzati sul canale mi raccomando se non l'avete già fatto iscrivetevi e date la campanellina così appunto quando pubblichi nuovi video vi arriverà la notifica e anche per quello di Mortal Kombat 1 e direi che per adesso quindi è tutto alla fin fine questo era un po' un mio sfogo per parlare un po' del perché mi piace Mortal Kombat di cosa mi aspetto da Mortal Kombat 1 e del fatto che Aftermath sono sicuro che sia un bel DLC però il fatto appunto che sia un epilogo che mette anche nuova carne sul fuoco a pagamento a parte un bel po' dopo il gioco base e anche dopo le sue prime espansioni mi aveva fatto un po' storcere il naso sembrava che volesse grabbarmi ancora soldi però se poi sarà davvero un anello di congiunzione con Mortal Kombat 1 magari ne parlo nel video appunto del nuovo gioco per adesso quello che ho visto è comunque interessante però non giustifica che sia un DLC a parte poteva benissimo far parte della storia base l'unica cosa è che ci sono appunto dei personaggi che teoricamente non c'erano subito però sarebbero potuti essere dei personaggi segreti da sbloccare giocando l'epilogo però è proprio il problema che ormai anche nei picchiaduro non lo fanno più devi pagarli a parte le cose extra se no non ce l'hai questa è un po' la critica anche di questo video però ripeto se mai adesso con 11 si può fare ma anche con Mortal Kombat 1 aspettate che esca poi la versione Complete Ultimate Gigadeluxe come la vorranno chiamare e comprate poi se mai una seconda edizione vi costa comunque meno che comprare il base e poi tutti i DLC Season Pass che escono costa di meno magari appunto non li giocate subito ma spendete di meno e io quindi detto ciò vi saluto e vi aspetto al prossimo video 2 1 ий 2 2 3 2 7